Si chiama Nico Mamanna. Ciao a tutti, ciao compagni e compagni. Io ringrazio per l'opportunità di parlare in questa assemblea appunto da precario. Sono un educatore del Comune di Bologna da sette anni, precario. Avrei voluto toccare alcuni temi del peggioramento dei tagli degli ultimi anni, ma sono costretto a tagliare. E quindi vorrei anche io parlare di alcune questioni che sono state toccate comunque da altri compagni prima di me, come la questione del contratto, perché dobbiamo essere consapevoli che stiamo entrando in una nuova epoca, in particolar modo dopo il voto del 4 dicembre in cui i giovani e i lavoratori hanno finalmente, sonoramente, detto cosa pensavano di quel governo e questo apre un nuovo periodo. E penso che noi qualche giorno prima abbiamo sottoscritto, firmato un preaccordo con contenuti pericolosi, tra l'altro appunto con quel governo. perché sono contento quando si parla di lottare contro la retorica dei fanulloni che tanto abbiamo sentito con la legge Brunetta, si sente parlare della questione che con questo accordo si sta smontando la legge Brunetta, ma poi si legge che invece si cercano misure che incentivino più alti tassi di presenza, cioè se ti ammali non avrai il salario accessorio e questo sta già succedendo, si parla di flessibilità oraria, quindi basta con il privilegio di avere una vita privata, si parla di misure incentive mirate per affrontare situazioni di disaffezione e demotivazione. Qui si sta dicendo, si sta parlando in questo modo di compagni, di lavoratori, che devono passare fino a 60 anni in un asilo nido come per il mio luogo di lavoro o in un ospedale, in un reparto di un ospedale. Compagni, chiamiamo le cose per come stanno, questo è l'ogoramento per lo sfruttamento che stanno mettendo in campo in questi anni. Inoltre si parla di rinnovo in linea con quanto fatto nei settori privati, anche qui mi pongo qualche domanda, perché in questi ultimi mesi abbiamo visto anche aumenti dell'orario di lavoro con gli ultimi contratti, si parla di welfare aziendale, cioè scambiare il salario con beni e servizi privati, tra l'altro questa è una fortissima contraddizione per noi che siamo dipendenti pubblici e vediamo quotidianamente smantellato il nostro lavoro e il servizio che noi offriamo. Qualche anno fa si parlava del fatto che noi abbiamo perso tra i 250 e i 300 euro di salario con il mancato del rinnovo, ora vedo il 10% circa, che è molto di più, molto di più degli 85 euro medi che stiamo vedendo in questo momento. Oltretutto si dice che si vogliono valorizzare prioritariamente i livelli retributivi che più hanno sofferto la crisi, ma chi con sette anni di mancato rinnovo di contratto non ha subito la crisi? Tra l'altro si voglia fare una battaglia per il precariato, ben venga facciamola una battaglia vera, basta contentarci di assicurazioni, di promesse da parte del governo, perché è lo stesso governo che ha avanzato il Jobs Act e i voucher e sono da pochi mesi i dati di quanto il Jobs Act abbia aumentato i licenziamenti e di come i voucher hanno massacrato le condizioni dei lavoratori. Tra l'altro io sono felice che con il referendum possiamo bocciare ulteriormente le misure prese dal governo Renzi, però ricordiamoci che io appunto non sono un precario pagato con i voucher, eppure la precarietà la vivo quotidianamente, lo stesso, quindi bisogna andare avanti e far sì che non ci sia più nessuno di quei 42.000 precari che la pubblica amministrazione sta avendo. Per questo sono d'accordo quando diciamo che c'è bisogno di un cambiamento radicale del nostro punto di vista e per questo penso che per fare questo uno bisogna tornare dai lavoratori, tornare facendo delle assemblee e chiedendo anche un voto non consultivo ma imperativo da parte dei lavoratori rispetto, vincolante rispetto a quello che noi stiamo facendo. E abbiamo bisogno di tornare dai lavoratori con una piattaforma chiara appunto discussa nelle assemblee che rivendichi aumenti retributivi e che prevedono di recuperare quanto abbiamo perso in tutti questi anni, che veramente emettono freno, anzi impediscono l'ulteriore sviluppo e cancellino la precarietà che stiamo vedendo ora e sblocchino il turnover che stanno massacrando letteralmente appunto i posti di lavoro dove quotidianamente lavoriamo. Per questo benissimo questa assemblea, sono contento di parteciparmi però appunto dobbiamo anche andare dai lavoratori e dobbiamo dire che siamo anche consapevoli che soltanto con la lotta si può portare a delle vere conquiste come qualcuno prima ha citato le grandi lotte che hanno conquistato i diritti negli anni 70 e come appunto il compagno della Guardia Forestale ha detto compagni alla lotta.